Ciao Chiara E questa notte il freddo mi ricorda il tuo nome e mi ricorda a te Perché come la tua mancanza io non la sento anche se sto facendo Porta a palazzi i suoi rotami mi ricordano che da domani è pronto il raffreddo degli esami Ma io non so se lo ritirerò sui manifesti elettorali Ex compagni universitari brava gente e persone normali ma io non so neanche se porterò Quel mio vecchio compagno di scuola si è candidato quello con i pezzi di scooter rubati nello scantinato Ma mi si è fattuto e tu hai procrastinato sei troppo raffinato Mi un figlio non l'ho neanche vaccinato ed è determinato a differenza nostra Il mondo va veloce la trufferenza costa io alla pancia del paese Ci parlo sul boom ma neanche in coda in posta non sopporto la versione in posta Abbiamo una visione opposta ed è un po' complicata Anche se poi la discussione non l'ho continuata Però si è fatta concitata quando ho detto che a me sembra una strontata Il vostro amore è poco più di una sporrada E chi ci chiede di perfettuare la specie Mettere al mondo è un'erede, un'erezione costante Già dalle neglie devi spargere il senso In fondo siamo animali a me sta bene Porta a palazzi i suoi nottami Mi ricordano che domani è pronto Vedo stami ma io non so se lo ritirerò Sui manifesti elettorali Ex compagni universitari Tra la gente non sono i normali Ma io non so neanche se è un posto o no Votare un diritto, votare un dovere Ma se non sai chi votare Vota a me per piacere Tanto non è trocative Guarda che abbiamo il potere Noi siamo agli uffici onesti Lo dovresti sapere Votare un diritto, votare un dovere Ma se poi andiamo a vedere Mi chiede di scegliere bene Per il bene comune, il comune che pensi di avere Votare un diritto, votare un dovere Porta a palazzi i suoi nottami Mi ricordano che domani è pronto Vedo stami ma io non so se lo ritirerò Sui manifesti elettorali Ex compagni universitari Tra la gente non sono i normali Ma io non so neanche se lo porterò Porta a palazzi i suoi nottami Mi ricordano che era domani è pronto A palazzi i suoi nottami Ma io non so se lo ritirerò E io non so neanche se lo porterò Tra un po' mi tocca raga Hanno sciolto le camere Tra un po' mi tocca andare a votare Io ve lo dico E in ora di questo faremo un pezzo raffa adesso No, facciamo un pezzo dedicato a Dio Dedicato? Ok Facciamo incazzare una persona molto importante Siete pronti con noi? Dio non sarà contento del vostro operato Raga, Willy, mi ha fatto una domanda Siete pronti o no? Forse siete Grazie Grazie Mutario Se fossi in me saremo in troppo E già qui dentro c'è una gran confusione Serve l'immagine, la comunicazione Sotto il sole di vincione Se fossi in me saremo in troppo E già qui dentro c'è una gran confusione Mi serve un'idea d'opinione Che mi dia un'indicazione Sono più calmo, più un'indicazione Non ricordo dove ho letto Che forse i vostri cani non piacciono a te Storiti i sogni dal cassetto Beh, qui la vita è giusta I vostri sogni in un sacchetto Forse è più corretto Busta, qui si cura male Voce del verbo spuntanare Per deturre che si può ballare Pure senza assumere O lavorare senza essere assunti Io non unico nessuno Mi faccio un'idea Se vuoi ti do gli appunti Ma mi spiegate Perché ogni cosa che fate Quando mischerate Si trasforma in una gara Squadra e basta un attimo Fine del dibattito Produe tifogerie Tanto l'idea Tutte le tifogerie Tanti argomenti Senza un'argomentazione Amori Senza precauzione Fede Senza imprecazione Ma i cani Sono meglio delle persone Che dicono che i cani Sono meglio delle persone Le preghiere non funzionano Ma le bestemmie Si Di te Le preghiere non funzionano Ma le bestemmie Si Di te Le preghiere non funzionano Ma le bestemmie Si Di te Le preghiere non funzionano Ma le bestemmie Si Di te Le preghiere non funzionano Lei mi dice che deve lasciarlo Come fosse un altro impegno In agenda Ehi Tanti di La pole dance E c'è un esame A fine mese Quindi Marco Balla C'è un'esame E c'è un'esame C'è un'esame E senza offesa Ma vestirsi male Avere un pessimo rapporto Col cazzo Mia cara Non c'entra niente Col femminismo Che finia a parte l'umorismo Togli il truffalo dal culo E lascia stare il catechismo Che tanto non fa effetto No Non sono neanche abattezzato Perché ci esiste pure peggio Perché li detta Cazzo C'è Le preghiere non funzionano Ma deve essere il sito Le cani sono meglio delle persone, che dicono che i cani sono meglio delle persone, ma i cani sono meglio delle persone, che dicono che i cani sono meglio delle persone, se passi poi saremmo troppi, e già qui dentro c'è una gran confusione, ma i cani sono meglio delle persone, che dicono che i cani sono meglio delle persone, le preghiere non funzionano, guarda che devi assicurare Grazie a tutti. Grazie a tutti.